Chi non ha mai sentito parlare di narcisismo? Spesso e volentieri usiamo questo termine per indicare quella caratteristica della personalità che fa essere innamorati di se stessi. Quante volte abbiamo sentito dare del narcisista a qualcuno? Solo magari perché è una persona particolarmente concentrata su se stessa. Nell'accezione comune il narcisista è considerato proprio questo. Ci sono persone che amano farsi selfie, che mettono in risalto le proprie qualità, le proprie caratteristiche, che si vantano di essere i migliori e via dicendo. E queste sono tutte persone che in qualche modo nell'accezione comune vengono definite come narcisista. In psicologia invece ci riferiamo a quegli individui innamorati della propria immagine idealizzata, cioè un'immagine costruita per nascondere quella reale, poiché è fragile. Quindi il narcisista fa proprio questo, in modo del tutto inconoscio ovviamente. Non solo crea un falso sé grandioso per proteggersi dai suoi pensieri angosciosi, ma utilizza gli altri per avere delle conferme su se stesso. Ovviamente relazionarsi con una persona così non è facile. All'inizio solitamente appaiono persone avventurose, capaci, addirittura sensibili, e capaci di ascolto con una grande capacità comunicativa. Con il tempo esce fuori invece la loro vera personalità. Allora lasciano solo sofferenza e strascichi di dolore e di rabbia, e naturalmente alla malcapitata di turno. Vediamo qual è il profilo psicologico nel narcisista. Di solito sono persone che hanno una ferita, che magari hanno subito maltrattamenti, abusi, abbandoni, oppure eventi traumatici durante l'infanzia. Oppure sono persone che sono state idolatrate troppo dai genitori, troppo viziati, accontentati, cresciuti con l'idea sbagliata di essere onnipotenti. Ma vediamo adesso quali sono le cinque caratteristiche per riconoscere un narcisista. La prima caratteristica che viene subito a galla è la capacità che hanno di sentirsi in qualche modo superiori agli altri. Cioè, significa che hanno una convenzione di essere superiori, di meritare un trattamento speciale, e credono che gli altri dovrebbero sottostare ai loro desideri e che le regole non si applicano a loro, ma solo agli altri. La seconda caratteristica, hanno un comportamento manipolativo. Un tratto comune del narcisismo è proprio questo, il comportamento manipolativo o di controllo. Un narcisista all'inizio cercherà di farsi piacere e essere gentile e premuroso, ma alla fine i suoi bisogni verranno sempre per primi. Terzo punto, mantengono le distanze emotive. Quando si relazionano con le altre persone, i narcisisti cercheranno di mantenere le persone a una certa distanza per mantenere in qualche modo il controllo, quindi emotivamente sono distaccati. Possono anche sfruttare gli altri per guadagnare qualcosa su se stessi, naturalmente. Quarto punto, hanno necessità di essere ammirati. Uno dei segni più comuni del narcisista, infatti, è una costante necessità di lode e ammirazione. Le persone con questo comportamento hanno bisogno di sentire la convalida degli altri e spesso si vantano o esafferano i loro risultati per il riconoscimento. A loro piace anche sentirsi apprezzati per aumentare naturalmente il proprio ego. Quinto punto, quello fondamentale anche, è una mancanza di empatia. Ciò significa che il narcisista non è in grado di entrare in empatia con gli altri, con i bisogni, i desideri delle altre persone e questo rende ancora più difficile per loro assumersi la responsabilità del proprio comportamento e delle sofferenze che infliggono alle altre persone. Hai mai avuto a che fare con una persona narcisista? Qual è stata la sua esperienza? Lascia il commento sotto.